Prese Eh? Prese 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 Niente Allora, prese Grandissimo, Presidente, un gol dal campionato del mondo, ma io sapevo che lo poteva fare solo un presidente questo gol E quale è il suo gol? No, nel senso è arrivato il dispositivo Eh, lo so, e... Eh, quello che... Un golone, un golone, un golone No, bravo Quando ha fatto i c***i tuoi, mi sentiresti di scena Eh, lo so, hai da una geletta, mi sono iniziato a vedere la professione Eh, proprio lui ti ha fatto un c***o, si scrive Basti, ti ha più soldi, adesso si scrive di un c***o E lei non sapeva che cosa ha fatto, non è che il personale non ha detto 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 E lei sta accettando, allora Stanno in giro per chi non ha visto E se mi insolta è l'essere sinistro C'è un senso è il senso Non è che il personale non ha detto Non è che il personale non ha detto Non è che il personale non ha detto Questo è il soggetto Non è che il personale non ha detto Non è che il personale non ha detto Il personale non ha detto Cioè rimane alla quarta sessione Ah Stai a bu Ma chi è stata operata? Stai a bu Grazie a tutti.